Grazie a tutti Io ci vado al lavoro, lei ci va a scuola qualche volta, quindi è tutto molto positivo, poi oggi questa giornata di sole ci rallegra ulteriormente, cosa chiedere di più? Sentiamo anche il parere di un uomo che ancora non è sceso dalla bicicletta, come è stato il tragitto? Sono memorato, bellissimo, diciamo che era ora che veniva terminata, quindi dai, un passo avanti Non sono le biciclette tradizionali? No, assolutamente, non è tradizionale Come mai questa idea? Per stare un po' tutti insieme e fare anche il percorso più in tranquilla? Una giornata con i bambini, per fare un giretto così, per fare un giretto, per stare una bella giornata col sole e via Mi sembra che si divertano anche Sì, è andata bene, è stata una buona idea, dai Come è stata questa pedalata? Oh, molto bella, molto bella Siete contenti dell'inaugurazione? Certo, finalmente L'aspettavate? L'aspettavate, sì Dopo tanti anni? Sì, sì, ci voleva perché è parecchi anni che soffriamo C'è ancora qualcosa da migliorare secondo voi? Sì, decisamente Allora, l'asfalto è ancora, insomma, dovrebbe essere tutto come sul ponte E le luci, decisamente Sarebbe quel tocco finale per renderla perfetta Sì, esatto Però intanto ci accontentiamo di quella che è Come vi è sembrata questa ciclabile? Molto bello, è una cosa fatta veramente bene, no? Sempre un bene per la pista ciclabile, sia per i ciclisti e non Bertulli, da realizzare il progetto a percorrerla, come è stato? È una bella sensazione perché ci ha voluto del tempo per realizzarla Dei problemi per gli espropri E poi oggi è una bella giornata perché siamo riusciti finalmente a percorrla per intero Buongiorno, a vedere dal casco un amante del ciclismo? Sì, buongiorno, sono un amante del ciclismo Ma mi fa piacere di essere qui oggi a Fano a Fenile A sentire dell'accento non è originaria della città di Fano? No, non sono da... sono francese Ambità qua comunque in zona? Abito a Pesaro e sono con forbici Fano L'accento come l'ha trovata? Ah, fa molto piacevole l'accento Sì, sì, fa piacere di fare questo Al riparo delle macchine con gli amici, sì, sì, molto piacevole Grazie